Architetto, la problematica dei Deorra, Taranto, dei Gazebo e quant'altro nelle piazze ha creato numerose polemiche. Allora, una persona dice, almeno io ho ragione in questi termini, così è giusto ovviamente rispettare i vari vincoli monumentali, però bisogna anche contemperare questi vincoli con le esigenze commerciali. C'è stata, la situazione forse più problematica, più eclatante è stata quella di Piazza Immacolata. C'è stata tutta una situazione relativa anche alla pizzeria Ricci. Ricci dice, io ho avuto i regolari permessi da parte dell'amministrazione e ora mi trovo invischiato in vicende giudiziarie. Ma non entro nelle vicende giudiziarie che non ci competono. Però, ecco, io dico, ma in altre città non ci sono ugualmente i Gazebo, non ci sono ugualmente i Deor. Cioè, il borgo Umbertino già soffre, ma se noi lo priviamo anche di Deor, che non sono comunque, come dire, invadenti, noi lo desertifichiamo il borgo se, ripeto, incominciamo a mettere pali e paletti. Sì, ma infatti la sovrintendenza non è che nega la possibilità di utilizzare lo spazio pubblico per attività di questo genere. Anzi, è fondamentale che ci siano questi spazi perché molto spesso gli spazi interni non sono sufficienti per accogliere gli utenti. In una città che dice di avere una vocazione turistica, chiaramente deve avere anche dei luoghi di sosta dove potersi ristorare. Quindi va benissimo che ci siano degli esterni, appunto i cosiddetti Deor, dove allestire questi spazi legati all'attività commerciale. Tuttavia non è il fatto in sé, ma il come. Quindi molto spesso noi ci troviamo nel centro di Taranto, non solo nel borgo Umbertino, ma anche nella città vecchia, ad assistere ad occupazioni di spazio pubblico in maniera così non controllata o quantomeno non armonizzata con il comune. Ecco, vorremmo capire in che senso lei auspica l'armonizzazione, perché poi qui si viene a creare una situazione strana con l'amministrazione. Ricci o chi al posto suo ha una regolare autorizzazione, installa il Deor, poi si sente dire no, questo Deor non è a norma. Si crea un danno. Oltretutto parliamo di attività Ricci o altri che comunque creano occupazione. Si crea comunque un ritorno economico in generale per il territorio, perché avere un Deor significa che il turista viene, si mangia la pizza, si beve la birra, sosta, gli alberghi crescono. Cioè è tutto un giro virtuoso. Se noi restringiamo e come dire soffochiamo, è ovvio che poi l'economia ionica muore e il borgo diventa come il deserto del Sara. Vorremmo capire tecnicamente qual è il problema, per esempio, caso Pizzeria Ricci, qual è il problema di questo Deor? Ma a me non fa piacere parlare di un caso speciale. No, no, dico Ricci per dire perché lì a Piazza Immacolata quello è stato il bubone, la questione che esplosa. No, io ritengo, d'altra parte abbiamo avuto anche altre riunioni con l'amministrazione comunale, che queste espansioni dell'attività commerciale all'esterno possano farsi, ma debbano essere regolate una volta per tutte. Nel senso che si debbano indicare quali sono i limiti. Da chi devono essere regolati? Dall'amministrazione comunale, ovviamente, noi ci siamo messi a disposizione per poter concordare queste linee, ma non, ripeto, in tutta la città. A noi interessa soltanto nella parte che è di nostra competenza. La nostra competenza non è su tutta la città, la nostra competenza è sui luoghi storici, perché esiste il codice dei beni culturali che indica, è noioso dover fare riferimento all'articolo di legge, eccetera, però giusto questo, non dirò altro, c'è un articolo, che è l'articolo 10, che è l'articolo principe, appunto, comma 4, lettera G, che dice che tutte le aree storiche, che quindi abbiano una valenza storica... Come piazza immacolata. Piazza immacolata, questo è il borgo, il cuore del borgo ottocentesco della città, sono sottoposte a vincolo monumentale, che vuol dire che in questi casi, solo in questi casi, quindi la città vecchia è una parte cospicua del borgo, sono sottoposte a vincolo, quindi il suolo, lo spazio pubblico è sottoposto a vincolo, per cui gli interventi in questi luoghi devono essere autorizzati dalla sovrintendente. Ecco, mi faccia capire una cosa, perché lo dico a beneficio dei telespettatori, e anche io che non sono un tecnico della materia, io devo allestire un gazebo, mi rivolgo all'amministrazione, un deor, e mi rivolgo all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale mi dà l'ok, perché evidentemente per l'amministrazione io ho rispettato i parametri, poi mi sento il no della sovrintendenza. Io, come si suol dire a Taranto, io esercente, io attività commerciale, mi trovo un po' come il ciuccio in mezzo ai suoni. Oltretutto ho investito, ho speso soldi, e poi mi si dice facciamo il gioco del lucca, devi rimuovere tutto quello che hai fatto. Cioè, sarebbe opportuno chiarire questo aspetto con l'amministrazione, proprio per non creare confusione in tutti. Veramente sono anni che noi, come sovrintendenza, stiamo chiedendo all'amministrazione di definire insieme un quadro di riferimento. Non ci sono risposte a tutt'oggi? Non c'è ancora una chiusura di questo procedimento, ancora non c'è, anche se abbiamo avuto un incontro proprio pochi giorni fa, che è l'ennesimo incontro. Probabilmente, insomma, credo che si arriverà ad una conclusione positiva, perché io ritengo che il cittadino non debba essere vessato e quindi andare incontro al buio. Cioè, debba sapere cosa può fare e cosa non può fare. Poi, nell'ambito di questo, poi diventa veramente una formalità autorizzare o no, quando siamo d'accordo. Tecnicamente, quali dovrebbero essere i parametri, i dettami che la sovrintendenza richiede per far sì che quel determinato Deor sia compatibile con l'assetto monumentale? Cioè, se io domani mattina non faccio più il giornalista e decido di aprire un ristorantino in Piazza Immacolata, ecco, voglio mettere un Deor perché la sera, soprattutto d'estate, i turisti si avvicinano. Bene, quali parametri io devo rispettare affinché ci sia anche l'ok della sovrintendenza? Beh, intanto uno dei parametri è quello di non alterare troppo, perché comunque una modifica c'è, anche se è una modifica, come dire, transitoria, in quanto le strutture sono tutte ammovibili, dovrebbero essere ammovibili. Alcune sono così poco ammovibili, pur essendo ammovibili, che francamente mi lasciano perplesso, perché sono proprio dei gazebi che, è vero, si possono smontare, ma se vogliamo anche il Colosseo si può smontare, ci hanno provato i barberini e ci sono pure riusciti in parte, non è questo. Ma comunque, al di là di questa battuta, voglio dire, è chiaro che ci deve essere una proporzione anche di occupazione di suolo pubblico, di percezione di questo oggetto che si viene ad inserire in un contesto che ha una sua, uso di sé, in una sua configurazione, una sua stratificazione storica. Dicevo, ci deve essere una proporzione per cui non ci dobbiamo trovare di fronte ad oggetti che sono così invasivi e così invadenti in uno spazio che è una sua già configurazione, intanto come dimensione e poi come caratteristiche formali, perché in un unico spazio, poniamo una piazza, è bene che le caratteristiche e le tipologie siano più o meno identiche, cioè non possiamo avere tante tipologie di Deor e l'ideale è che siano tutte uniformate, anche nel colore, nelle caratteristiche degli arredi, nella mancanza, perché non ci devono essere in segne luminose o scritte in questi arredi, ma debba essere tutto molto sobrio perché deve prevalere l'immagine d'insieme. Qui però non potrebbe esserci un rischio che ci possa essere, possa prevalere un aspetto soggettivo rispetto a un oggettivo nel giudizio della sovrintendenza, perché stiamo parlando di parametri che poi non diventano proprio oggettivi, ma hanno una loro soggettività. L'insegna X, l'X che può essere più appariscente o meno appariscente, afferisce a un giudizio soggettivo? Proprio per questo è importante mettere a punto un criterio, quindi un regolamento che sia condiviso, perché nel momento in cui il regolamento viene condiviso e viene quindi fatto non soltanto dalla sovrintendenza, per carità, viene fatto dal Comune con la sovrintendenza, quindi viene condiviso e vengono fissati i parametri. È chiaro che tutto può essere soggettivo, però a un certo punto se c'è un criterio che viene condiviso, questo criterio condiviso che viene messo per iscritto è il punto di riferimento per ogni intervento che viene eseguito. In Piazza Immacolata ci sono anche altri Deor, vale per tutti la stessa regola, perché qualche maligno, non io, dice ma per un Deor per Ricci abbiamo fatto la guerra e per altri invece non ci sono state quelle critiche. Tecnicamente dove sono le differenze tra il Deor Ricci e il Deor Pincopallino? Io voglio evitare la guerra tra poveri, perché Taranto già soffre, se ci facciamo la guerra tra le attività commerciali è un peccato veramente. Però dico in generale, creiamo dei parametri oggettivi affinché Ricci, Abate, Ressa, Pincopallino, per tutti ci sia una uniformità di trattamento. Veramente, noi assolutamente non abbiamo fatto nessun accanimento nei confronti di Ricci, noi abbiamo semplicemente detto all'amministrazione comunale, tanto più che noi non abbiamo rapporti diretti con il cittadino, l'esercente eccetera, perché noi abbiamo rapporti con l'amministrazione comunale, noi non autorizziamo l'occupazione di suolo pubblico, che è appunto pubblico, al Ricci o ad altri esercenti, noi autorizziamo il comune, il quale poi il comune deve rilasciare le autorizzazioni a sua volta. Forse il problema è proprio nel rapporto tra la soprintendenza e il comune. Abbiamo rapporti con l'ente che è titolare delle aree di riferimento, cioè un'attività commerciale chiede l'autorizzazione all'occupazione non di un proprio spazio, ma di uno spazio che è di tutti noi cittadini, e il titolare è il comune, è il comune che deve gestire le aree, e noi abbiamo delegato il comune a gestire le aree che sono di tutti. Sì, non so se mi spiego. Per cui noi non abbiamo rapporti diretti con questo o con quello, ma solo con l'amministrazione comunale. Forse. Ho segnalato ancora una volta l'amministrazione comunale, come per esempio in Piazza Maria Immacolata, quei gazebi che sono presenti, e non soltanto quello che lei ha citato, tutti i gazebi che sono presenti non sono stati oggetto di richiesta di autorizzazione da parte del comune, all'ente delegato alla tutela, che è la sovrintendente. Il comune non ha fatto richiesta, mi pare di capire. Eh no, è quello il punto, non l'attività commerciale della quale io ho il massimo rispetto. Però poi lei capisce, ora l'attività commerciale dice, io ho seguito il mio iter, mi sono rivolto al comune, se il comune poi è carente, alla fine non è che il guaio me lo devo piangere io, capisce? Cioè mettiamoci nei panni, perché io voglio rispettare le regole, vado dall'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale mi dice ok, poi se l'amministrazione comunale non ha contattato la sovrintendenza, per sua, io non entro nel mer, per sua carenza, alla fine chi paga? Il commerciante? Mi pare che i commercianti stiano là con i loro gazebi e nessuno li ha tolti. Però sono sotto processo. Ricci è sotto processo. Secondo me, ritengo che il giudice valuterà se la responsabilità è dell'attività commerciale o del comune. In questo caso, io mi sono già espresso, come vi ho detto, cioè io ho rapporto, noi come sovrintendenza abbiamo rapporti col comune, non con l'esercizio commerciale.